come si chiama signora maria maria quanti anni ha 82 complimenti come si sente dopo e si sta un po più bene si riposa un po di più riusciamo come nuove alla fine senti però io sono sempre un po emozionata ci vai prima tu ti butto ok vado dai noi facciamo la sauna calda non fredda tipo il pentolone di gargamella dai dimmi tutta la sensazione cosa stai provando ho i glutei ghiacciati adesso mi giro un altro po per ghiacciare qualcos'altro avete capito cosa vediamo un po sei a meno 124 gradi ma è finissima questa cosa poi esco giovane come la signora ti muoviti se no mamma mia gelato il cioccolato dolce io che abbatto i pesci le verdure le salse adesso capisco cosa vuol dire ha finito mi viene da dire commenti al caldo ma invece con me diciamo che è elettrizzante ecco mi sento tutta l'adrenalinica sarà il movimento che io non sono abituata a fare ecco sarà per quello ma quindi questa vediamo dopo qualche ora la sensazione vediamo adesso non tremo più però mi sento proprio tutta la circolazione tutto un formicolio perché questa fa no aumenta fino a sette volte il metabolismo possiamo anche mangiare qualcosa in più volte adesso andiamo in pasticceria adesso tocca a me prego mia cara io mi fido ma fino a certo punto quindi mi sono messo anche il cappellino da buona sudese ok aspetta vedo questo sento già freddo va dentro ma no adesso il freddo arriva sì una sensazione di freschezza questa l'ho già sentita da te sedere come hai detto tu non lo sento più di già sì quanto sono dentro 20 secondi ma forse perché io avevo più materia da raffreddare siamo a 136 tu non eri a 136 gradi perché mi fanno questo mi sento un bastoncino ecco ma la signora supereroe e le vecchie generazioni hanno una fibra che noi non abbiamo io ho una fibra veloce ottima ho finito ho finito ciao non ti dà un senso un po di euforia io sono uscita tutta casata adesso sì e mi sento già insomma un po' diversa sei tutta così che ti muovi vado a vestirmi e poi certo saprò dire ambra creosa una fatta esperienza nuova pazzesca a me è piaciuto comunque nonostante tutte le mie paure io no mi sono buttata e le mie reazioni sono così come sono ci siamo rincescate le idee torniamo da voi ciao ragazzi